Buongiorno a tutti e innanzitutto un buon 2023 sperando che veramente sia un buon anno rispetto agli ultimi che abbiamo vissuto. In questa puntata riprendiamo e concludiamo la nostra carrellata relativa ai materiali di impiego aromautico andando a parlare dei materiali compositi. Cominciamo andando a spiegare che cos'è un materiale composto. Come dice il nome stesso è un materiale costituito da più parti. In particolare è costituito da due parti fondamentali. Una è la matrice che è la parte rigida e che conferisce la forma al nostro manufatto e una è la parte fibrosa il cui compito invece è quello di conferire la resistenza meccanica all'oggetto che andiamo a produrre. La natura ha già creato il suo materiale composto molto prima dell'uomo ed è il legno di cui abbiamo già parlato in un altro video. Il legno è infatti costituito da una parte resinosa che si chiama lignina e da una parte fibrosa che si chiama cellulosa. A tutti invece quando si parla di materiale composto viene sicuramente in mente la fibra di carbonio. Ma la fibra di carbonio non è l'unico materiale composto che viene utilizzato nell'industria e in aeronautica anche se proprio nell'ambito aeronautico è sicuramente la più utilizzata. Ma di ampio uso abbiamo anche la fibra di vetro che viene molto utilizzata ad esempio nell'ambito navale oppure la fibra di keglar che viene invece utilizzata però per produrre oggetti che devono assorbire energia come ad esempio giubbotti antiproiettile oppure i caschi dei militari americani e non solo. Ma per quale motivo una fibra di carbonio sta trovando così tanta applicazione in ambito aeronautico da andare a sostituire il principale materiale utilizzato fino ad ora ossia le leghe di alluminio? Beh la motivazione è legata soprattutto al rapporto resistenza peso. Pensate che queste fibre non solo il carbonio ma anche il vetro e il keglar hanno delle resistenze a trazione elevatissime. Si parla dell'ordine di 4000 newton su millimetro quadrato quando una buona lega di alluminio raggiunge valori di circa 400 newton su millimetro quadrato quindi ben 10 volte inferiori rispetto alle fibre. Inoltre a questo dobbiamo aggiungere il discorso relativamente al peso. Infatti una fibra di carbonio o una fibra di keglar hanno un peso che si aggira attorno ai 1300 kg su metro cubo che è quindi praticamente la metà rispetto a una lega di di alluminio il cui peso si aggira attorno ai 2700 kg a metro cubo. Il rapporto quindi resistenza peso è di 20 volte più grande quello della fibra di carbonio e della fibra di keglar rispetto a una lega leggera in alluminio. Per quanto riguarda invece una fibra di vetro le resistenze a trazione sono comparabili con il carbonio e con il keglar per quanto riguarda il peso invece siamo attorno ai 2400 kg a metro cubo quindi approssimativamente uguale a quello dell'alluminio e quindi il rapporto resistenza peso della fibra di vetro è di circa solo 10 volte più grande rispetto a quella dell'alluminio. Ma tra una fibra di carbonio una fibra di keglar e una fibra di vetro qual è la migliore nell'applicazione aeronautica? Perché alla fine vince il carbonio? Non dobbiamo andare solo a guardare il rapporto resistenza peso che diciamo mette più o meno allo stesso livello il keglar e il carbonio mentre il vetro è leggermente più svantaggiato ma dobbiamo andare anche a guardare l'energia che un materiale è in grado di assorbire e l'elasticità del materiale stesso. Andando a guardare in particolare questo ultimo parametro ossia l'elasticità del materiale bisogna far notare che noi andiamo a costruire soprattutto telai e un telaio per natura deve essere rigido non può deformarsi in modo eccessivo in quanto andrebbe poi a influire proprio sull'aerodinamica del velivolo stesso. E se noi andiamo a guardare proprio la rigidità del materiale in questo caso vince sicuramente il carbonio. Il carbonio infatti sono tantissimi tipi di carbonio ci sono le fibre di carbonio HM ad alto modulo di Young oppure LM a basso modulo di Young ma le fibre HM hanno dei moduli di Young veramente alti e si possono raggiungere valori di 800.000 Nm2 contro i 135.000 di una fibra di keglar e i 206.000 ad esempio di un acciallo. Quindi il carbonio è molto più rigido e quindi è molto più adatto alla costruzione di telai. Kevlar e vetro invece hanno moduli di Young molto più bassi che però li rendono adatti all'assorbimento di energia. Infatti questi due materiali in particolare il kevlar possono essere utilizzati in applicazioni appunto dove si è soggetti a urti come appunto la produzione di giubbotti antiproiettile e di caschi per militari. Ma a fianco a tutti questi pregi ci sono anche dei difetti che bisogna andare a prendere in considerazione. Ad esempio il carbonio ha problemi di fatica. Nonostante abbia dei limiti di fatica molto elevati che gli garantiscono una vita molto lunga ha il problema che la frattura si presenta improvvisamente senza dare nessun previso di cedimento. È un materiale che non ha un limite di fatica al di sotto del quale il componente vive in modo infinito come accade ad esempio all'acciaio oppure a un legno. Ma si romperà sempre e quando si romperà si romperà improvvisamente senza dare alcun previso. Ma il principale difetto di questi materiali è costituito sicuramente dai costi. Costa tanto la materia prima, costa tanto la produzione dei manufatti, costa tanto la manutenzione nel tempo. Ed è per questo motivo che probabilmente la lega di alluminio continua ad essere ancora il principale materiale di impiego aeronautico. Ma come viene prodotto un componente in fibra di carbonio? Beh si parte da un piccolo filo dello spessore di soltanto 5 micron, 10 volte più sottile di un cappello. Questo piccolo e sottile filo viene prodotto con dei processi industriali molto complicati che vanno da aumentare incredibilmente la resistenza del carbonio. Questo piccolo filo poi viene organizzato in matasse. Una matassa è sostanzialmente costituita da centinaia di fili aggregati insieme. Dopodiché le matasse vengono intrecciate tra di loro a formare un tessuto con ordito e trama. L'ordito ha la funzione di mantenere insieme il tessuto, la trama ha la funzione di conferire la resistenza. Possono essere con lo stesso numero di fili o con numero di fili differenti, dando origine a dei tessuti monodirezionali o bidirezionali. Inoltre possono essere costituiti dello stesso materiale, ad esempio tutto carbonio, oppure possono essere costituiti da materiali misti, ad esempio carbonio e fibra di vetro, oppure carbonio e Kevlar. Il carbonio conferisce la rigidità, la fibra di vetro o il Kevlar conferiscono una maggiore capacità di resistere agli urti. Una volta che noi abbiamo i nostri tessuti che hanno una determinata grammatura, ossia un peso per metro quadro, si va da 50 grammi a metro quadro fino a circa 400 grammi a metro quadro, una volta che abbiamo questi tessuti abbiamo bisogno di uno stampo che darà la forma al nostro componente. Innanzitutto questo stampo viene ricoperto con un materiale distaccante, ad esempio una cera. Infatti rischiamo altrimenti che il nostro tessuto si incolli allo stampo e non saremo poi più in grado di separare le due parti. Una volta che abbiamo messo il distaccante possiamo inserire all'interno del nostro stampo il primo strato di tessuto e quindi possiamo iniziare a distribuire sul nostro tessuto la resina. Si utilizzano resine che si chiamano epossidiche, sono resine che sono molto rigide e servono a conferire forma al nostro oggetto. Le resine epossidiche sono normalmente bicomponenti, sono costituite da una parte che è la resina vera e propria che però ha tempi di polimerizzazione molto lunghi, la quale viene addizionata come un catalizzatore il cui scopo è proprio quello di aumentare la velocità di polimerizzazione della nostra resina. Quindi noi stendiamo la resina sul nostro tessuto, dopodiché mettiamo un altro tessuto ancora, cospargiamo con il pennello altra resina, andiamo a rullare ad esempio con un rullo per ridurre la quantità di aria assorbita dal tessuto e mettiamo tanti strati e tanta resina quanto deve essere lo spessore che vogliamo raggiungere. Una volta che abbiamo raggiunto il numero di strati desiderato possiamo prendere il nostro stampo e metterlo all'interno di un sacco, aspirare quindi tutta l'aria e creare il vuoto all'interno dello stampo in modo da assorbire tutta l'aria e ridurre la possibilità di presenza di difetti all'interno del materiale stesso. Possiamo infine prendere il nostro stampo e metterlo all'interno di un autoclave a temperatura più alta della temperatura ambiente come ad esempio 50-60 gradi in modo da velocizzare ulteriormente la reazione di polimerizzazione e ridurre quindi i tempi di produzione. Alla fine di tutto il processo basterà togliere il nostro stampo dal sacco e togliere il nostro componente dallo stampo e fare le ultime lavorazioni per produrre il nostro componente. Il componente quindi risulta completato e pronto ad essere installato sul nostro velivolo. I materiali compositi sono dei materiali eccezionali che utilizzeremo ancora per molti secoli e sempre di più, ma oltre ai difetti che abbiamo sottolineato, ci sono anche difetti dovuti alla difficoltà di riciclare questo materiale e alla difficoltà di smaltire. Per questo motivo siamo alla ricerca di materiali composti di natura biologica come la fibra di canapa o la fibra di ortica e altre fibre per riuscire a risolvere questi problemi. E con questo siamo arrivati in fondo a questa serie di video dedicata ai materiali di impiego oronautico. Io ringrazio tutti per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video con tante novità. Ciao a tutti!